Pesca di frodo, abusivismo edilizio sul demanio, violazione al codice della navigazione, depuratori difettosi, scarichi fognari e inquinamento da idrocarburi. Crescono le illegalità e i danni del mare. Del Molise si colloca al 14esimo posto della graduatoria nazionale elaborata da Lega Ambiente nel rapporto Mare Monstrum 2013, presentato a Roma in occasione della partenza di Goletta Verde e della Goletta dei Laghi 2013. Il monitoraggio sullo stato di salute delle nostre acque toccherà 34 località balneari e 21 laghi, 3,4 illeciti per chilometro di costa e 122 infrazioni accertate. Il Molise resta in 14esima posizione, la stessa occupata anche lo scorso anno, ma si colloca in terza posizione della graduatoria sulle infrazioni commesse per singolo chilometro di costa. 120 le persone denunciate ed arrestate, 19 i sequestri effettuati, in particolare 29 le infrazioni accertate in materia di abusivismo edilizio sulle aree demaniali, 30 le infrazioni in materia di inquinamento del mare, 58 in materia di pesca di frodo. Numeri forniti dalle Gambiende e dalle Capitanerie di Porto. Dall'indagine emerge inoltre che circa il 10% della popolazione non è ancora servito dall'impianto di depurazione. Sempre secondo il rapporto dell'Associazione Ambientalista, in Italia resiste ancora la brutta tradizione delle spiagge negate, interi tratti di arenile interdetti ai cittadini perché privatizzati dagli stabilimenti balneari. 12.000 lidi, uno ogni 350 metri di spiaggia. Grazie. Grazie. Grazie.